Fratelli e sorelle nel Signore, oggi voglio parlarvi dei doni spirituali, di particolari doni spirituali, del parlare della diversità, del dono della diversità di lingue, del dono delle lingue quindi, dell'interpretazione delle lingue e della profezia. Perché? Perché voi già sapete che noi siamo pentecostali, non tanto che la Pentecoste era una festa ebraica. Durante quella festa, come si legge in Atti, capitolo 2, il Dio ha cominciato a spargere una promessa, una promessa fatta già attraverso il profeta Gioele, che aveva promesso appunto lo Spirito Santo, sia agli ebrei e sia a tutte le estremità della terra. Cioè, quando si dice nelle scritture tutte le estremità della terra, vuole intendere tutte le genti, perché voi sapete che la Bibbia distingue tra giudei, tra i giudei che sono stati scelti come popolo per portare avanti il nome di Dio, e tutte le altre popolazioni. Quindi questa promessa, la promessa del battesimo con lo Spirito Santo, con la manifestazione delle lingue, è stata, diciamo, fatta sia ai gentili che per i giudei. Ora, come manifestazione della ricezione di questa importante promessa col quale si riceve la potenza di Dio, cioè il credente, quando nasce di nuovo, riceve una misura di spirito. Successivamente, in un secondo momento, può ricevere, riceve, anzi per lui è stata fatta questa promessa, la promessa del battesimo con lo Spirito Santo, cioè la pienezza dello Spirito Santo, il riempimento totale e completo dello Spirito Santo in quella persona, che quando viene riempito, trabocca in lingue, trabocca praticamente, e dalla sua bocca comincia a uscire un parlare in altre lingue, un parlare in altre lingue che chi parla non comprende, badate bene, un linguaggio che chi parla non comprende, e possono anche non comprendere quel linguaggio anche coloro che sono vicini a lui. Quindi si parlano altre lingue, ecco perché poi è necessario, per rendersi comprensibile questo tipo di parlare, è necessario che ci sia il dono dell'interpretazione delle lingue. Ora leggiamo, leggiamo, appunto, andiamo in Prima Corinzi 12, e leggiamo sul dono di diversità di lingue. Perché l'Apostolo Paolo, proprio ai Corinzi, leggendo i Corinzi e anche Atti degli Apostoli, vediamo che cosa è questo parlare in altre lingue, e cosa è quindi poi l'interpretazione delle lingue? Perché sono strettamente legate. E purtroppo dobbiamo registrare il fatto che ci sono due cose importanti da considerare. La prima è che c'è un gruppo di persone, un gruppo di persone che noi chiamiamo cessazionisti o antipentecostali, o che non credono nelle guarigioni divine, e che contrastano fortemente anche il parlare in altre lingue. Cercano in tutti i modi di annullare questa potente promessa che Dio ha fatto alla sua Chiesa. Ma le scritture ne parlano, quindi se le scritture ne parlano ne parliamo anche noi. Le scritture lo dicono e quindi noi crediamo. Le scritture lo dicono e quindi noi crediamo e insegniamo quello che sta scritto. Perché questa promessa non è cessata. La promessa del battesimo con lo Spirito Santo, come leggiamo in Atti 2, in Atti 2, 39, in Atti 2, 39, leggiamo la promessa che ricorda Pietro, che ricorda Pietro, lo dice ai giudei, queste parole le pronuncia ai giudei. Pietro dice queste parole. Poiché per voi è la promessa, quindi per voi è rivolto ai giudei, per i vostri figlioli, quindi la promessa del battesimo con lo Spirito Santo era per i giudei, e per i figlioli dei giudei, cioè per i discendenti dei giudei, vedete? Poi dice ancora, è per tutti quelli che sono lontani. Questa è un'altra frase col quale si indicano i gentili, cioè le popolazioni che erano lontane da Dio, ma che in Cristo Gesù si sono avvicinate, perché in Cristo Gesù, nella croce di Cristo Gesù, dei due popoli, il Dio ne ha fatto uno solo. Quindi coloro che erano lontani, e qui si vengono indicati i gentili, si intendono i gentili. Quindi la promessa abbiamo vista per i giudei, per i discendenti dei giudei, per i gentili, e poi dice anche per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. Qui sta parlando al futuro. Quindi questa promessa iniziata ad adempiersi nel giorno della Pentecoste, ecco che continua, Pietro fa comprendere che sarebbe continuata. E se noi leggiamo in Cioele, come riportato proprio da Pietro, dice appunto e farò prodigi, capitolo 2, versetto 19, farò prodigi su nel cielo e segni giù sulla terra, sangue, fuoco, vapore di fumo, il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue. Prima che venga il grande e glorioso giorno che è il giorno del Signore. Quel giorno lì è il ritorno del Signore. Quindi citando quel passaggio di Gioele, Pietro, per quanto riguarda il raccontare a quei giudei l'esperienza che avevano ricevuto sul battesimo con lo Spirito Santo, Pietro vuole dire che questa promessa sarà data da Dio ai credenti fino al momento in cui il Signore tornerà. Copre tutto questo periodo di tempo. Quindi questa promessa di Dio non è cessata. Questa promessa di Dio non è venuta a meno. La promessa di Dio è ancora valida. E questo, tutti i credenti che vogliono servire il Signore, che vogliono servirlo, devono saperlo. perché chi vuole servire il Signore e anche chi non lo vuole servire deve pregare il Dio per ricevere prima di tutto il battesimo con lo Spirito Santo e poi anche pregare per i doni spirituali. Tra questi doni spirituali a cui viene aperta la porta della ricezione dei doni dal momento in cui si viene battezzati con lo Spirito Santo, infatti sempre in capitolo 2 al versetto 17 dice e avverrà negli ultimi giorni dice il Dio che io spanderò del mio Spirito sopra ogni carne. Questa è la promessa. Poi batate bene cosa dice dopo. Come conseguenza cosa avviene? E i vostri figlioli e le vostre figliole profetteranno, vedete? I vostri giovani vedranno delle visioni e i vostri vecchi sogneranno dei sogni. Quindi le rivelazioni sarebbero aumentate. il dono di profezia sarebbe stato distribuito da quel momento in poi viene distribuito dal momento in cui si viene battezzati con lo Spirito Santo. Quindi prima si viene battezzati con lo Spirito Santo e dopo si apre la porta per ricevere i doni spirituali. Tra questi doni spirituali quindi una volta detto questo andiamo a leggere al capitolo 12 al capitolo 12 di prima Corinzi leggiamo leggiamo sui Paolo spiega spiega tutto ciò che riguarda capitolo 12 13 e 14 spiega molte cose che riguardano i doni spirituali. 12 1 dice circa i doni spirituali fratelli non voglio badate bene cosa dice Paolo non voglio che siate nell'ignoranza quindi l'Apostolo Paolo ha scritto ai Corinzi ma quindi a tutta la Chiesa anche a noi oggi affinché noi affinché i Corinzi non stessero nell'ignoranza e neanche noi oggi dobbiamo stare nell'ignoranza quindi cosa succede? Succede che noi studiando le parole che ha insegnato l'Apostolo Paolo che ha scritto l'Apostolo Paolo ai Corinzi 12 13 e 14 noi veniamo a conoscere molte cose chiaro non tutto ma molte cose per quanto riguarda i doni spirituali perché se Paolo ha scritto che ha voluto iniziare il suo discorso dicendo che non voleva che i Santi stessero nell'ignoranza vuol dire che quello che scrive è importante ed è una conoscenza che tutti noi dobbiamo dobbiamo avere dobbiamo 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 studiare nella parola e sono delle parole che tutti noi dobbiamo studiare e per accrescere la nostra conoscenza per uscire da quella ignoranza che magari avevamo prima infatti la prima ignoranza è questa che ci sono quelli che non credono nel battesimo con lo Spirito Santo e che non credono che la conseguenza del battesimo con lo Spirito Santo sia appunto la manifestazione del parlare in altre lingue una manifestazione dello Spirito Santo qui dice dal versetto 4 qui dei Prima Corinzi 12.4 leggiamo or vi è diversità di doni ma vi è un medesimo spirito sì perché anche se i doni sono diversi tra di loro perché guardate bene i doni spirituali sono diversi tra di loro cioè non ce ne sono due che siano uguali questo lo devo dire perché perché taluni sono arrivati a concludere che l'interpretazione delle lingue sia uguale alla profezia ma non è assolutamente così adesso andremo a vederlo non è assolutamente così l'interpretazione delle lingue è una cosa la profezia è assolutamente un'altra cosa e qui lo dice vi sono diversità di doni vi è diversità di doni non vi sono doni uguali ma diversi gli uni dagli altri e vi è diversità di ministeri infatti voi sapete anche che in Efesini ci sono indicati i ministeri che sono cinque solamente cinque né uno di più né uno di meno e tra di loro sono diversi non sono uguali i ministeri l'uno all'altro non ci sono due ministeri uguali sono tutti e cinque diversi vi è diversità di ministeri ma non vi è che un medesimo signore e vi è diversità di operazioni ma non vi è che un medesimo iddio il quale opera tutte le cose in tutti or a ciascuno è data la manifestazione dello spirito per l'utile comune infatti a uno è data mediante lo spirito parola di sapienza a un altro parola di conoscenza secondo il medesimo spirito a un altro fede mediante il medesimo spirito a un altro doni di guarigioni per mezzo del medesimo spirito a un altro potenza di operare miracoli a un altro profezia a un altro il discernimento degli spiriti a un altro diversità di lingue e ad un altro la interpretazione delle lingue ma tutte queste cose le opera quell'uno e medesimo spirito distribuendo i suoi doni a ciascuno in particolare come egli vuole quindi cosa vediamo qui noi ci concentriamo sui doni di cui dobbiamo parlare oggi è chiaro che c'è tanto di parlare anche sugli altri doni ma oggi ci concentriamo sul dono di diversità di lingue notate bene diversità di lingue perché il dono di diversità di lingue il dono di diversità di lingue cioè parlare diverse lingue quindi non una ma più di una questo perché 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 quando si viene battezzati con lo spirito santo si parla almeno una lingua capite ecco perché c'è il dono di diversità di lingue non è un dono di lingue attenzione ma di diversità di lingue cioè più di una lingua almeno due almeno due quindi col dono spirituale di parlare di diverse lingue queste lingue si vanno ad aggiungere a quell'una lingua che uno già parla quando viene battezzato con lo spirito santo perché quando uno viene battezzato con lo spirito santo ecco che parla almeno una lingua una lingua straniera una lingua che lui non comprende una lingua una lingua umana noi diciamo umana poi andiamo anche a leggere qualcosa che riguarda questo è una lingua umana non una lingua angelica non una lingua angelica citeremo anche il passo che alcuni dicono per cercare siccome 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 ci sono quelli che falsificano era il secondo punto che poi mi sembra di non aver di cui non ho parlato il primo punto era quello dei cessazionisti poi c'è il secondo punto che è quello che purtroppo nell'ambiente pentecostale c'è molta confusione riguardo questi doni ci sono si parlano lingue false non si conosce esattamente cosa sia il battesimo con lo spirito santo perché non lo sperimentano ma taluni molti falsificano questo il parlare in altre lingue falsificano l'interpretazione e persino la profezia falsificano cioè dicono ripetono a pappagallo e proprio delle parole tipo masciai masciallai masciallai ripetono così con una cacofonia un ripetere delle sillabe continue mescolate assieme ma sempre quelle sono quindi non formano in questa maniera una vera e propria lingua ma è soltanto un rumore di sillabe che esce dalla bocca come si giustificano costoro si giustificano dicendo ma questo è il parlare angelico ma assolutamente assolutamente non è così non è assolutamente così perché la scrittura ci fa vedere ci sono molti esempi che dicono appunto che il parlare in altre lingue il parlare in altre lingue è un parlare lingue umane lingue umane lingue proprio parlate in tutti i posti della terra la prima cosa che dobbiamo notare questo vale per tutti i doni spirituali e del testo che abbiamo letto prima corinzi 12 è il fatto che i doni spirituali sono una manifestazione dello spirito santo quindi come definizione questa va presa come definizione quello che sta scritto al versetto prima corinzi 12 7 sono una manifestazione dello spirito tutti i doni spirituali tra cui anche quindi quello delle diversità di lingue una manifestazione dello spirito perché perché è lo spirito che opera che si manifesta cioè in una maniera soprannaturale è potente non è non avviene qualcosa che l'uomo si è preparato prima oppure che può fare l'uomo può dire magari l'uomo no non dipende assolutamente dall'uomo il dio si serve dell'uomo ma non dipende dall'uomo quindi è una manifestazione diretta dello spirito santo che si manifesta attraverso attraverso i credenti per quanto riguarda le lingue che la bocca di quel credente pronuncia praticamente delle parole in un delle frasi in una lingua che non è comprensibile né a lui e né a quelli che né a quelli che molte volte neanche a quelli che lo ascoltano perché ci può essere qualcuno faccio un esempio io non conosco l'arabo no? se il signore mi dà di parlare l'arabo io non lo capisco in mezzo a voi magari non lo capirete ci sono ci sono ci sono quelli che non lo capiscono però magari ci può essere un fratello arabo qualche volta che capisce il linguaggio lo capisce perché è la sua lingua natia quindi quindi possono capire quel linguaggio che si parla che si che queste lingue straniere queste queste altre lingue può essere compreso da coloro che da coloro che magari ce l'hanno come linguaggio natio cioè il loro linguaggio di origine la loro lingua madre poi cosa succede cosa succede succede che il Dio cosa ha stabilito il Dio ha stabilito che queste questo è dono delle lingue questo dono di diversità di lingue anche il parlare in altre lingue come segno del battesimo con lo spirito santo il Dio ha stabilito che di affiancarlo con un altro dono spirituale che è il dono dell'interpretazione delle lingue il dono con cui con cui si interpreta si traduce si traduce il parlare quello che è stato detto in lingua straniere viene tradotto in lingua comprensibile a tutta la Chiesa presente questi doni spirituali perché vengono dati dal Signore un altro un altro motivo importante da considerare è che un altro passo importante è sempre il versetto 7 è che i doni spirituali sono una manifestazione dello spirito dati per l'utile comune quindi per la edificazione di tutta la Chiesa di Cristo lo scopo dei doni spirituali principalmente è quello di edificare tutta la Chiesa non di edificare pochi ma tutta la Chiesa chi parla in altre lingue come scritto più amanti in capitolo 14 di Prima Corizzi chi parla in altre lingue edifica se stesso perché quando si parla in altre lingue la mente rimane infruttuosa non comprende quello che tu dici ma lo Spirito Santo insieme al nostro Spirito interiormente sta operando sta innalzando quel parlare a Dio e questo edifica quel credente anche se non comprende con la sua mente con l'interpretazione poi quella preghiera quel cantico quello che quel parlare rivolto a Dio ecco che diventa comprensibile a tutti quindi viene edificato di nuovo chi ha parlato in altre lingue e viene edificata anche tutta la Chiesa voi immaginatevi se dentro la Chiesa c'è qualcuno che è malato e lo Spirito Santo intercede per la sua guarigione questo qui viene edificato viene consolato ma anche tutta la Chiesa viene consolata perché sa che lo Spirito Santo intercede per la Chiesa intercede per i Santi quindi tutti i credenti si sentono tranquilli si sentono contenti che lo Spirito Santo intercede per loro a seconda dei loro bisogni quindi anche l'interpretazione vedete di una preghiera fatta dallo Spirito Santo edifica la Chiesa edificante per la Chiesa qui sorge un problema il problema il problema qual è il problema maggiore qual è purtroppo perché in ambiente pentecostale si è confusa l'interpretazione delle lingue con la profezia e si è diviso il parlare in altre lingue si è diviso il parlare in altre lingue in due parti diverse una parte che è sempre incomprensibile che nessuno riesce mai a tradurre e non si capisce il perché perché debba essere tutto intraducibile ma questo l'hanno inventato gli uomini e un'altra parte quando invece può essere tradotto questo questo errore viene fatto perché 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 c'è una forzatura nel voler manifestare a tutti i costi che si è ricevuto il battesimo con lo spirito santo da Dio quando invece non si è ricevuto nulla oppure può essere anche che degli spiriti immondi dentro determinate persone si mettono a parlare certe lingue anziché parlare diciamo anziché benedire Dio anziché dare gloria a Dio magari bestemmiano pure il nome il nome del Signore quindi purtroppo purtroppo c'è molta ignoranza nella conoscenza di questi doni spirituali soprattutto in ambito pentecostale soprattutto in ambito in quell'ambito pentecostale che che dovrebbe essere quell'ambito evangelico che porta avanti la verità su questi su questi doni potenti che Dio distribuisce alla sua Chiesa e invece vediamo soprattutto una manifestazione di falsità anziché una manifestazione dello Spirito Santo quindi torniamo al concetto delle lingue cosa sono le lingue cioè quando uno parla in altre lingue cosa è perché prima dobbiamo comprendere cosa sia questo parlare in altre lingue che cosa consiste perché poi dopo passiamo a comprendere cosa sia l'interpretazione di queste lingue in atti 2 subito in atti 2 andiamo a leggere quello che avvenne la prima volta quando le persone furono battezzate con lo Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue la scrittura dice questo capitolo 2 versetto 4 dice Luca scrive queste parole e tutti furono ripieni dello Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito dava loro di esprimersi or in Gerusalemme si trovavano di soggiorno dei giudei uomini religiosi d'ogni nazione di sotto il cielo ed essendosi fatto quel suono la moltitudine si radunò e fu confusa perché ciascuno li udiva parlare nel suo proprio linguaggio e tutti stupivano e si meravigliavano dicendo ecco tutti costoro che parlano non sono egli no Galilei e com'è che li udiamo parlare ciascuno nel nostro proprio natio linguaggio noi parti medi e lamiti abitanti della Mesopotamia della Giudea della Cappadocia del Ponto dell'Asia della Frigia della Panfiglia dell'Egitto delle parti della Libia Cirenaica e avventizi romani tanto giudei che proseliti cretesi ed arabi li udiamo parlare delle cose grandi di Dio nelle nostre lingue e tutti stupivano ed erano perplessi dicendosi l'uno all'altro che vuol essere questo quindi questo parlare in lingue era un segno per i non credenti vedete furono attirati i non credenti da questo segno però guardate bene qui dice non è come taluni ho sentito dire anche tra i pentecostali come taluni dicono che in lingue hanno evangelizzato non è assolutamente vero qui c'è scritto cosa hanno detto in lingue i 120 che sono stati battezzati il giorno della Pentecoste c'è scritto che li udivano parlare delle cose grandi di Dio delle cose grandi che Dio ha fatto faccio degli esempi per farvi capire cosa vuol dire parlare delle cose grandi di Dio che poi sono le cose che anche noi molte volte ripetiamo nelle nostre preghiere che Dio è grande potente e glorioso con la sua mano potente braccio disteso ha aperto il Mar Rosso e ha liberato il suo popolo vedete questo è un esempio di parlare delle cose grandi di Dio lì Dio che ha fatto grandi segni e prodigi ha mandato le sue piaghe in Egitto ha abbattuto dei repotenti ha accompagnato potentemente il suo popolo lungo il viaggio ha liberato il suo popolo dai suoi nemici in maniera gloriosa e potente capite questo sono esempi che ci fanno che sono esempi del fatto di che cosa vuol dire parlare delle cose grandi di Dio quindi parlare nelle lingue il loro parlare era rivolto a Dio è importante questo questo si differenzia il parlare in altre lingue si differenzia dalla profezia appunto perché chi parla in altre lingue parla a Dio è un parlare rivolto a Dio la profezia invece è un parlare di Dio rivolto agli uomini cioè la direzione è inversa capite con la profezia è Dio che parla agli uomini quindi con un messaggio un linguaggio di edificazione consolazione di esortazione mentre quando si parla in altre lingue è un parlare rivolto a Dio tra cui questo parlare è un parlare diciamo ad esempio parlare delle cose grandi di Dio dare gloria a Dio praticamente dal testo che abbiamo letto abbiamo visto che c'erano persone di moltissime nazioni sia giudei che proseliti e li hanno uditi questi centoventi ognuno sentiva il parlare della sua lingua il suo natio linguaggio cioè della sua lingua di origine perché questi centoventi secondo come lo spirito santo ha voluto ognuno parlava una certa lingua c'era chi parlava l'arabo chi parlava il romano chi parlava la lingua della Libia cirenaica la lingua egiziana della frigia della panfiglia cioè ognuno parlava una certa lingua come lo spirito santo ha voluto quelli che erano di quelle parti lì che conoscevano bene quella lingua li hanno uditi e senza interpretazione senza alcuna interpretazione perché qui non c'era bisogno di interpretazione delle lingue del dono dell'interpretazione perché quando uno parla la lingua di quello che ci è nato in quel luogo che ha sempre parlato quella lingua e l'ha sempre sentita non ha bisogno di interpretazione delle lingue lì in quel caso quindi era un segno per tutte queste persone perché li udirono parlare la loro lingua e che cosa hanno udito hanno udito dire che appunto questo che parlavano delle cose grandi di Dio vedete non hanno né evangelizzato né dato un messaggio non è che hanno detto ravvedetevi oppure io sono l'eterno che vi dico no non hanno parlato in questa maniera hanno parlato delle cose grandi di Dio quindi questo passaggio è importante l'ho voluto citare affinché voi comprendiate questo e poi ne leggeremo anche altri per comprendere cosa sia il parlare in altre lingue senza alcuna distinzione tra perché poi vediamo senza alcuna distinzione tra il segno del battesimo con lo spirito santo e il dono spirituale invece della diversità di lingue la possibilità il dono che lo spirito santo dà ai credenti di parlare più lingue straniere il modo diciamo cambia la lingua ma non cambia la sostanza c'è sempre un parlare rivolto a Dio deve essere è obbligatore è così scritturalmente è così e voi sapete che noi non possiamo spiegare la Bibbia con la pratica cioè non sono le nostre esperienze o le esperienze di altre che ci devono far comprendere le scritture piuttosto è il contrario è conoscendo le scritture che noi poi dopo riusciamo a spiegare le esperienze di taluni capite non bisogna invertire le cose invertendo le cose ci mettiamo poi a spiegare la Bibbia come ci pare a noi capite secondo le necessità secondo il bisogno che è secondo il desiderio umano ci mettiamo a dire seguendo più le esperienze che la parola e questo non va bene semmai dobbiamo esaminare quello che succede nella Chiesa e i fratelli lo dobbiamo esaminare attraverso le scritture e oggi noi facciamo questo percorso appunto esaminando determinate cose nelle scritture per conoscendole come ha detto Paolo non voglio che siate nell'ignoranza affinché una volta conosciute poi possiamo andare in giro nelle comunità e discernere comprendere quello che succede ma lo facciamo attraverso le scritture attraverso quella quella fonte quella autorità maggiore che abbiamo che ci guida la parola di Dio è una lampada al nostro piede è quella fonte che ci guida lungo il cammino non c'è una fonte maggiore della parola di Dio capite perché la parola di Dio proviene da Dio se noi crediamo che sia veramente parola di Dio sappiamo che è Dio che ci parla quindi quelli che parlano contro o in maniera contraria a quello che Dio ci ha lasciati quelli non sono da Dio il Dio non può parlare contro se stesso capite contraddire quello che lui prima ha scritto quindi è importante che noi ci atteniamo strettamente alle sacre scritture a quello che è scritto nella parola nella parola di Dio per comprendere comprendere ogni cosa e per quanto riguarda le lingue quindi avete visto avete visto quindi che qui si parlavano delle cose grandi di Dio ma adesso andiamo avanti adesso andiamo in prima a Corinzi perché Paolo ne parla ancora e spiega chiaramente cosa sono il dono di diversità di lingue spiega ancora cosa si dice quando si parla in altre lingue al capitolo 14 vedete capitolo 14 leggiamo capitolo 14 versetto 2 allora leggiamo dal versetto 1 procacciate la carità non lasciando però di ricercare i doni spirituali e principalmente il dono di profezia qui l'Apostolo Paolo dice che bisogna procacciare la carità noi dobbiamo crescere nella carità dobbiamo abbondare nella carità questa è la prima cosa la cosa più importante è una delle cose più importanti crescere nella carità però dice anche vedete non lasciando però di ricercare i doni spirituali quindi dobbiamo ricercare prima di tutto la carità perché perché vi sto citando questo versetto perché alcuni pongono molta enfasi sulla carità e va bene non è che noi siamo contrari siamo favorevoli ma sta scritto anche senza senza tralasciare senza lasciare di ricercare i doni spirituali quindi cerchiamo prima di tutto di abbondare nella carità ma cerchiamo anche i doni spirituali li ricerchiamo come? pregando per ottenerli non ricercarli di fare allenamento non si fa allenamento sui doni spirituali si prega e si ricevono non ce li abbiamo già li dobbiamo chiedere perché i doni perfetti vengono il dono perfetto viene dall'alto ogni dono buono e perfetto viene dall'alto dice Giacomo viene dall'alto non è che ce li abbiamo già vengono dall'alto questa è un'altra menzogna taluni dicono tu ce l'hai già lo devi manifestare questo perché? perché stanno inculcando in questa maniera lo stanno inducendo a falsificare le lingue capite come è stato come astuto il maligno come astuto vuole falsificare il più possibile questo dono potente perché sa bene che una chiesa che ricerca ardentemente questo dono il dono della promessa del battesimo con lo spirito santo diventa una chiesa potente diventa una chiesa la cui testimonianza non può essere arrestata ma sarà una testimonianza efficace e potente quella dei credenti che sono ripieni di spirito santo ecco perché vi esorto spesso fratelli e sorelle a ricercare questi doni a ricercare il battesimo con lo spirito santo perché così sarete dei testimoni dell'evangelo potenti capite uscirà una potenza che se non c'è il battesimo con lo spirito santo questa potenza non c'è non è che uno non può evangelizzare non può parlare attenzione è importante che uno sia credente abbia una misura di spirito e già in lui c'è una potenza che si muove ma voi immaginate la massima potenza ecco che cosa dobbiamo ricercare essere ripieni di potenza la pienezza dello spirito santo per essere testimoni efficaci e potenti dell'evangelo in ogni luogo dove ci troveremo quindi è importante ricercare il battesimo con lo spirito santo e anche i doni spirituali andiamo avanti leggendo il testo perché dice versetto 2 perché chi parla in altra lingua non parla agli uomini ma a Dio vedete questa è un'altra caratteristica importante che riguarda il parlare in lingue dice chi parla in altra lingua non negazione non parla agli uomini ma a Dio vedete quindi quindi chi parla in altre lingue non parla non parla agli uomini non è un linguaggio un messaggio rivolto agli uomini quando si parla in lingue ma è un parlare rivolto a Dio infatti abbiamo la testimonianza che abbiamo citato prima in Atti 2 abbiamo visto che i 120 parlavano delle cose grandi di Dio il loro parlare era rivolto a Dio vedete tutto conferma quando si taglia rettamente la scrittura tutto è confermato non ci sono buchi oscuri non si perdono dei pezzi capite quando uno invece usa la scrittura per fargli dire quello che lui vuole deve tralasciare molte spiegazioni di molti passaggi quando invece uno taglia rettamente le scritture e ottiene dalle scritture quella sapienza quell'insegnamento corretto non c'è nessun passaggio che annulla quello che lui dice e noi vogliamo essere tra questi non siamo di quelli che adulterano la parola di Dio non siamo di quelli che tagliano la parola di Dio per fargli dire quello che vogliamo a noi noi ci dobbiamo sempre studiare di annunziare quello che insegna la parola quello che insegna la parola quello che vuole lui che vuole il Dio insegnare a ciascuno di noi e non quello che a noi ci piace ma quello che Dio vuole che è una cosa diversa quindi abbiamo visto che il parlare in altra lingua Paolo dice che è un parlare rivolto a Dio poiché nessuno l'intende ma in spirito proferisce misteri in spirito perché come abbiamo già detto anche lo spirito santo insieme al nostro spirito come scritto anche i romani lo spirito santo insieme al nostro spirito cosa dicono gridano Abba padre ma sempre lo spirito santo insieme al nostro spirito ecco che lo spirito santo parla in altre lingue edifica quella persona dalla cui bocca escono questi questi linguaggi naturalmente se lui non le capisce perché la sua mente rimane infruttuosa cioè non comprende la lingua parla ma quella lingua che la bocca parla parla quel tipo di lingue che lui non capisce ecco perché la mente rimane infruttuosa ecco perché proferisce misteri sono dei misteri per lui è una cosa misteriosa non la capisce né lui né gli altri che magari la chiesa non c'è nessuno che capisce quel tipo di lingua quindi quindi sono misteri per tutti è un parlare misterioso poi al versetto 3 quindi prima Corinzi 14 3 dice Paolo scrive queste parole chi profetizza invece parla agli uomini parla agli uomini un linguaggio di edificazione di esortazione e di consolazione quindi questo linguaggio vedete è un parlare rivolto agli uomini cioè è Dio che parla agli uomini come tante volte hanno parlato hanno parlato i profeti io sono l'eterno che ti guarisco io sono l'eterno il tuo Dio che ti guida che ti aiuta che ti protegge questo è un esempio di una profezia di un parlare di Dio rivolto agli uomini quindi quando uno si rivolge a Dio e dice Dio sia allorato a Dio sia tutta la gloria perché Gli è potente e sovrano e governa tutto l'universo questo è parlare dare gloria a Dio benedire Dio parlare delle cose grandi di Dio ed è quel tipo di parlare rivolto a Dio quindi che si fa in lingue mentre quando mentre la profezia un modo di parlare che sempre viene dallo Spirito Santo cioè non è che uno si prepara il discorso da fare il giorno prima e poi lo dice no viene dallo Spirito Santo è una cosa estemporanea non è preparata viene pronunziata in quel momento secondo come lo Spirito Santo vuole secondo la sua volontà quindi l'uomo l'uomo ci mette solo la sua bocca praticamente non ci mette la sua volontà perché lui non ha né preparato la profezia neanche le lingue e neanche l'interpretazione delle lingue ma viene si manifesta da parte dello Spirito Santo poi dice al versetto 4 dice chi parla in altra lingua edifica se stesso vedete quello che abbiamo detto chi parla in altra lingua edifica se stesso perché perché edifica se stesso perché lo Spirito Santo sta parlando in lui capite sta operando potentemente in lui come se l'ha preso completamente e si usa di quella persona quindi in quel momento in cui lo Spirito Santo si manifesta viene grandemente edificata quella persona solo quella persona perché perché gli altri non comprendono per adesso poi andiamo avanti e vediamo cosa succede ma chi profetizza vedete edifica la chiesa quindi chi parla in altre lingue edifica se stesso chi profetizza edifica se stesso e la chiesa capite perché perché la profezia avviene in un linguaggio che tutti comprendono e quindi vengono tutti edificati contemporaneamente compreso chi profetizza che capisce la sua mente non rimane infruttuosa ma la sua mente elabra il messaggio che sta uscendo dalla sua bocca cioè non solo la sua bocca parla ma anche le sue orecchie ascoltano e la sua mente elabora la profezia che è in lingua comprensibile a tutta la chiesa quindi chi parla invece in altra lingua viene edificato solo se stesso avete capito quindi c'è una differenza di edificazione per quanto riguarda l'edificazione c'è una grande differenza tra chi parla in altre lingue e chi profetizza la differenza è data appunto da questo che chi parla in altre lingue edifica se stesso vedete uno solo chi profetizza edifica la chiesa e quindi da questo punto di vista la profezia è superiore al parlare in altre lingue è superiore è superiore nel senso di edificazione capite perché perché quello che si che si deve tendere si deve tendere a desiderare a fare è quello di edificare tutta la chiesa quindi chi parla in altre lingue chi parla in altre lingue edifica se stesso mentre chi profetizza edifica tutta la chiesa quindi chi profetizza è superiore a chi parla in altre lingue è superiore non come persona badate bene ma è superiore nel senso di edificazione infatti poi poi leggendo ancora vediamo che lo spiega lo stesso Paolo or io ben vorrei che tutti parlaste in altre lingue ma molto più che profetaste chi profetizza è superiore a chi parla in altre lingue a meno che gli interpreti affinché la chiesa ne riceve edificazione vedete quindi chi profetizza è superiore a chi parla in altre lingue a meno che questo non è che fa della profezia uguale all'interpretazione l'interpretazione delle lingue non diventa uguale alla profezia quello che diventa uguale tra i due doni quando c'è l'interpretazione delle lingue è l'edificazione della chiesa perché con l'interpretazione delle lingue si rende comprensibile a tutta la chiesa quello che è stato detto in lingue il parlare rivolto a dio che è stato fatto in lingue si rende comprensibile a tutta la chiesa con l'interpretazione delle lingue quindi in quel momento con l'interpretazione le lingue e l'interpretazione sono pari alla profezia per quanto riguarda l'edificazione della chiesa non sono uguali come doni e qui c'è un altro inganno qui c'è un altro inganno col quale cercano nelle chiese di far comprendere che l'interpretazione delle lingue è uguale alla profezia ma non è così perché altrimenti avremo due doni uguali ma che senso ha due doni spirituali chiamati in maniera diversa che sono uguali non ha senso abbiamo letto prima che vi è diversità di doni quindi i doni sono diversi tra di loro i doni spirituali quello che si ugualia quello che si è reso uguale tra l'interpretazione delle lingue e la profezia è l'edificazione della chiesa non il dono non diventa uguale il dono ma è l'edificazione della chiesa capite questo è importante questo dovete comprenderlo bene perché purtroppo molti non l'hanno compreso Paolo scrive Paolo scrive affinché le persone comprendano non scrive affinché le persone traggano dalle sue parole le giustificazioni alle loro pratiche sbagliate vedete quindi lo scopo è quello che la chiesa ne riceve edificazione e Paolo andando avanti dice infatti fratelli se io venissi a voi parlando in altre lingue che vi gioverei se la mia parola non vi recasse qualche rivelazione qualche conoscenza o qualche profezia o qualche insegnamento e sì perché se uno parla in altre lingue gli altri non lo capiscono ma come fanno a essere edificati quelli della chiesa anche se chi parla in altre lingue è edificato però non lo è la chiesa non lo è tutta la chiesa perché proferisce misteri non lo comprendono capite ecco perché l'obiettivo Paolo esorta con questo suo parlare esorta i santi a ricercare tutto quello che è glorioso davanti a Dio sono doni potenti da Dio ma che edificano la chiesa e questo è l'obiettivo che Paolo si è posto nella scrivere queste parole dare una conoscenza ed esortare i santi a chiedere quei doni che edificano la chiesa andando avanti leggiamo ancora perfino le cose inanimate che danno suono quali il flauto la cetra se non danno distinzione di suoni come si conoscerà quel che è suonato con flauto o con la cetra e se la tromba dà un suono sconosciuto chi si preparerà alla battaglia così anche voi se per il vostro dono di lingue ecco qui questo versetto il versetto 9 quindi 14.9 da notare che qui l'Apostolo Paolo sta parlando sta spiegando che cosa è il dono di diversità di lingue questo è importante perché adesso andremo a leggere che il dono di diversità di lingue non è diverso da quel segno che abbiamo letto prima in Atti 2 è sempre un parlare rivolto a Dio quindi non è come taluni dicono che le lingue bisogna distinguerle in due cose diverse quello che è il segno del battesimo con lo Spirito Santo e quello che invece sono il dono delle lingue no perché tutte e due entrambi sia il dono di diversità di lingue sia il segno del battesimo con lo Spirito Santo che si manifesta appunto parlando in altre lingue tutte e due sono un parlare rivolto a Dio parlare umano che è rivolto a Dio non è rivolto agli uomini sono uguali quindi quindi li sta uguagliando l'Apostolo Paolo li uguaglia l'unica differenza che c'è tra il segno delle lingue e il dono di diversità delle lingue è appunto la diversità di lingue che con il dono si ricevono più lingue di cui poi si parla quando si prega quando si benedice in Dio capite la diversità di lingue andando avanti leggiamo quindi così anche voi se per il vostro dono di lingue non proferite un parlare intelligibile come si capirà quel che dite parlerete in aria ci sono nel mondo tante e tante specie di parlare e niente parlare è senza significato qui l'Apostolo Paolo sembra suggerire qualcosa ci sta dicendo badate bene che collega praticamente il parlare di tutto il mondo tutte le specie di parlare del mondo le collega al fatto di parlare in altre lingue capite non sta collegando il parlare in altre lingue al parlare angelico ma lo sta collegando fa dei paragoni e spiega determinati concetti facendo riferimento al parlare che c'era nel mondo in tutto il mondo che gli uomini parlavano in tutto il mondo e quindi dobbiamo fare attenzione anche a questi paragoni che l'Apostolo Paolo ha fatto poi continuando il nostro testo sta scritto se quindi io non intendo il significato del parlare sarò un barbaro per chi parla e chi parla sarà un barbaro per me così anche voi poiché siete bramosi dei doni spirituali cercate di abbondarne per l'edificazione della chiesa vedete quindi qui l'Apostolo Paolo sta cercando di esortare di spingere i santi a cercare a desiderare ardentemente quei doni spirituali che edificano tutta la chiesa non solo quelli che edificano se stessi e per edificare la chiesa per edificare la chiesa quindi se parlavano molti c'erano molti all'epoca quindi tra i corizi che parlavano in altre lingue quindi per edificare la chiesa c'era bisogno di che cosa c'era bisogno di ricevere anche il dono dell'interpretazione delle lingue perché in quella maniera chi parlava in altre lingue poi veniva interpretato e reso comprensibile a tutta la chiesa questa interpretazione di queste lingue quindi edificava tutta la chiesa perciò a versetto 13 perciò chi parla in altra lingua preghi di poter interpretare quindi qui coloro che parlano in altre lingue si ricordino quei tali questi fratelli si devono ricordare che devono pregare per ricevere l'interpretazione delle lingue è una cosa scritta che quindi è buono fare qui bisogna pregare per i doni spirituali e bisogna pregare per ricevere anche il dono dell'interpretazione delle lingue poi andando avanti leggiamo poiché se prego in altra lingua ben prega lo spirito mio ma la mia intelligenza rimane infruttuosa vedete qui Paolo spiegando cosa sono le lingue dice ben prega lo spirito mio vedete lo spirito mio nel senso insieme allo spirito santo capite cioè se lo spirito santo parla in altre lingue prega il dio in altre lingue il nostro spirito prega insieme allo spirito santo anche se noi non lo comprendiamo ma l'intelligenza vedete dice che rimane infruttuosa cioè la mente non comprendendo le parole è come se uno si mette a parlare in arabo la mente non capisce cosa sta dicendo sì dentro viene edificato però la mente rimane infruttuosa cioè non elabora non lavora non porta frutto non ci sono pensieri che edificano che glorificano il dio perché non puoi farlo perché non capisci quello che stai dicendo da notare qui vedete che dice che in lingue praticamente si prega il dio è una preghiera una delle cose che è questo parlare rivolto a dio è una preghiera qui dice vedete poiché se prego in altra lingua quindi è anche una preghiera abbiamo visto prima in atti che era un parlare rivolto a dio un parlare delle cose grandi di dio qui dice che è una preghiera quindi è un parlare sempre rivolto a dio poi dice ancora che dunque io pregherò con lo spirito ma pregherò anche con l'intelligenza cioè se io prego con lo spirito cioè parlando in altre lingue incomprensibili se ricevo il dono dell'interpretazione delle lingue ecco che non solo pregherò con lo spirito in maniera incomprensibile ma dopo pregherò anche con l'intelligenza cioè pregherò in una maniera che la mia intelligenza comprenda quello che viene detto perché anche l'interpretazione delle lingue è una manifestazione dello spirito santo cioè non è una cosa che uno elabora con la sua testa la pensa prima e poi la fa no proviene sempre dallo spirito santo anche l'interpretazione solo che in questo caso con l'interpretazione l'intelligenza lavora elabora è fruttuosa capite questo vuole dire poi dice ancora salmeggerò con lo spirito quindi un'altra cosa che si fa quando si parla in altre lingue è salmeggiare a Dio vedete cantare a Dio proprio un vero e proprio cantico lo spirito santo che canta un cantico innalza un cantico a Dio è un parlare sempre rivolto a Dio un cantico rivolto a Dio vedete poi però cosa succede salmeggerò come continua Paolo l'esortazione appunto è quella che quando uno riceve il dono dell'interpretazione delle lingue non solo salmeggia con lo spirito in lingue ma poi con l'interpretazione salmeggia anche con l'intelligenza cioè in maniera comprensibile per lui e per tutti gli altri della Chiesa poi gli spiega anche perché vedete altrimenti se tu benedici il Dio soltanto con lo spirito vedete cioè se soltanto si benedice il Dio con con lo spirito quando si parla in altre lingue vedete un'altra cosa quindi un'altra definita un'altra un'altra cosa che riguarda le lingue appunto quello di benedire il Dio vedete un parlare sempre rivolto a Dio se tu benedici Dio soltanto con lo spirito come potrà colui che occupa il posto del semplice uditore dire amen al tuo rendimento di grazie vedete quindi anche il rendimento di grazie in lingue può essere il parlare in altre lingue può essere anche un rendimento di grazie un rendimento di grazie a Dio vedete rivolto sempre a Dio poiché non sa quel che tu dici quanto a te certo tu fai un bel ringraziamento e certo sei lo spirito santo che ringrazia il Dio attraverso le nostre bocche è un bellissimo ringraziamento però l'altro non è edificato perché non comprende se uno parla soltanto in altre lingue né lui né gli altri comprendono con la mente quello che si sta dicendo però se c'è il dono dell'interpretazione delle lingue ecco che viene tutta la chiesa viene edificata e quindi allora è meglio io ringrazio Dio che parlo qui poi Paolo dice queste parole di se stesso io ringrazio Dio che parlo in altre lingue più di tutti voi vedete l'Apostolo Paolo ma nella chiesa preferisco dire cinque parole intelligibili per istruire anche gli altri che dirne diecimila in altra lingua quindi Paolo parlava lingue più di tutti i corinzi capite Paolo aveva il dono di diversità di lingue parlava lingue più di tutti i corinzi però lui preferiva dire qualcosa in un linguaggio comprensibile a tutta la chiesa per edificare tutti che parlare in altre lingue e dire diecimila parole questo qui insieme a quest'altre parole che leggiamo al versetto 23 che adesso leggiamo poi le spieghiamo quando dunque tutta la chiesa si raduna assieme se tutti parlano in altre lingue ed entrano degli estranei o dei non credenti non diranno essi che siete pazzi ma se tutti profettizzano ed entra qualche non credente o qualche stranio egli è convinto da tutti e scrutato da tutti i segreti del suo cuore sono palesati e così gettandosi giù con la faccia a terra adorerà Dio proclamando che Dio è veramente fra voi praticamente se uno parla in altre lingue gli altri non capiscono voi immaginatevi immaginatevi se già uno che parla in altre lingue e gli altri non ascoltano che rimangano lì infruttuosi immaginatevi tutta la comunità se si mette a parlare in altre lingue tutta la comunità se tutta la comunità parla in altre lingue fanno solo confusione ed è molte volte quello che si sente nelle comunità nelle comunità si sente parlare in altre lingue tutti insieme ma non è biblico perché perché è solo confusione perché Dio non è un Dio di disordine di confusione ma è un Dio d'ordine infatti per quanto riguarda il parlare in altre lingue il parlare in altre lingue il Dio ha stabilito questo adesso leggiamo cosa è stabilito per le lingue come si devono praticare nella chiesa 14-27 se c'è chi parla in altra lingua siano due o tre al più a farlo e l'uno dopo l'altro e uno interpreti e se non vi è che interpreti si tacciano nella chiesa e parlino a se stessi e a Dio vedete per quanto riguarda le lingue il Dio ha stabilito questo che a parlare in altre lingue devono essere due o tre al più a farlo e non tutti insieme ma uno dopo l'altro dice qui uno dopo l'altro e due o tre al più e deve esserci uno che interpreta ma se non c'è chi interpreta nella chiesa allora questi che parlano in altre lingue non devono parlare in altre lingue da farsi sentire da tutta la chiesa ma possono perché è chiaro che possono parlare in altre lingue ma lo devono fare solo tra loro stessi cioè in maniera che non tutta la chiesa sia disturbata da loro parlare in altre lingue capite? possono fare piano piano lo possono fare dentro di sé lo possono fare possono farlo ma lo devono fare senza disturbare quelli che sono che sono senza disturbare la chiesa senza disturbare gli altri che hanno vicino perché qui stabilisce l'ordine preciso vedete Paolo stabilisce l'ordine preciso con come si deve manifestare il parlare in altre lingue ora se lo spirito santo distribuisce i doni come vuole se lo spirito santo è lui è la manifestazione dello spirito e parlare in altre lingue è la manifestazione dello spirito se lo spirito santo ha ispirato Paolo a scrivere queste parole come può lo spirito santo contraddire e gettare via tutto quello che ha scritto facendo parlare tutta la chiesa insieme in lingue facendo una gran confusione quindi questo cosa ci fa capire ci fa capire che i credenti che parlano in altre lingue diciamo dentro una chiesa dove sono più di due due o tre e parlano tutti insieme così siamo sicuri che non è lo spirito santo che sta parlando in altre lingue non è lo spirito santo ma è qualcos'altro che non è da Dio perché se lo spirito santo ha dato un ordine preciso di come si debbano manifestare le lingue parlare in altre lingue sarebbe contraddicente a se stesso fare il contrario di quello che lui ha scritto capite quindi già il fatto quando li sentite tutti gridare lingue tutti insieme già sapete che siete in un ambiente dove non c'è lo spirito santo che sta operando è chiaro e lo possiamo dimostrare appunto biblicamente con questi con questi discorsi che stiamo facendo quindi abbiamo detto che il parlare in altre lingue vedete poi qui continuando a leggere al versetto 28 versetto 29 sì 29 fino a 31 comprendiamo da questi passaggi ancora una volta ci sono altri elementi che ci fanno capire che la profezia non può essere assolutamente associata alle lingue e all'interpretazione delle lingue perché qui dice cioè se il parlare in altre lingue è numericamente determinato due o tre al più a farlo qui al versetto 29 leggiamo parlino due o tre profeti e gli altri giudichino e se una rivelazione è data a uno di quelli che saranno seduti il precedente si taccia poi dice vedete per quanto riguarda la profezia poiché tutti ad uno potete profetare vedete affinché tutti imparino e tutti siano consolati cioè mentre il parlare in altre lingue e quindi la conseguente interpretazione può essere solo di due o tre al più al massimo il profetare è possibile per tutti tutti possono profetare quindi tutta la comunità naturalmente quelli che hanno ricevuto il dono di profezia possono profetare profezia non è insegnamento l'insegnamento è una cosa che uno medita nella parola medita e poi il Signore anche se guidato sempre dallo Spirito sospinto dallo Spirito a insegnare a portare un insegnamento ma non è mai non è mai come la profezia la profezia è estemporanea cioè lo Spirito Santo direttamente che si manifesta e porta quel tipo di messaggio rivolto agli uomini quindi qui vedete un'altra differenza tra l'interpretazione che può essere fatta solo massimo tre volte no? ha tre tipi di parlare ed altre lingue mentre il profetare tutti non è impedito a nessuno di profetare se ci sono quelli che vogliono profetare che lo Spirito Santo da loro di profetare lo possono fare tutti tutti quanti quindi quindi la profezia vedete è diversa dall'interpretazione delle lingue ora abbiamo visto abbiamo visto quindi cosa sono le lingue e ci domandiamo giustamente come facciamo a dire che l'interpretazione delle lingue cosa è l'interpretazione delle lingue l'interpretazione delle lingue è la traduzione di quello è la traduzione esatta nella lingua comprensibile a tutta la Chiesa di quello che si è detto in altre lingue e questo lo leggiamo dobbiamo andare nel Vangelo mi sembra di Marco se noi andiamo nel Vangelo di Marco c'è la spiegazione di che cosa la scrittura intenda con la parola interpretazione delle lingue Marco 15 dal versetto 33 la situazione lì è questa Gesù è sulla croce va bene Gesù è sulla croce e Marco scrive queste parole per quanto riguarda la situazione che Gesù era sulla croce Marco scrive 15 33 è venuta l'ora sesta si fecero tenebre per tutto il paese fino all'ora nona ed all'ora nona Gesù gridò con gran voce Eloì Eloì lama sabachthanì il che interpretato vuol dire Dio mio Dio mio perché mi hai abbandonato quindi vedete Gesù non parlò in altre lingue qui stava parlando una lingua ebraica che lui conosceva naturalmente le lingue che si parlano non sono lingue studiate e conosciute se io conosco l'inglese non è che lo spirito santo mi fa parlare inglese non è che studio la lingua e poi la parlo no quello non è parlare in altre lingue sconosciute se no non sono un mistero ma si parla in altre lingue sconosciute capite lingue sconosciute sia a chi le parla che alla chiesa praticamente può esserci qualcuno che le capisce attenzione non è che magari nessuno le capisce perché se io parlo in arabo c'è un arabo che capisce e quello capisce non c'è bisogno dell'interpretazione delle lingue per lui lui sta comprendendo quindi per lui diventa un segno vedete magari se non è credente diventa poi un segno per lui quindi abbiamo visto che per la parola interpretazione qui la scrittura usa la parola non è l'unico caso ma per farvi capire vedete qui c'è scritto due volte in ebraico Eloi Eloi quindi l'interpretazione come è stata l'interpretazione cioè la traduzione di quello detto in ebraico tradotto in greco è trasformato in questa maniera Dio mio Dio mio vedete due volte Eloi Eloi e due volte è stato detto Dio mio Dio mio la traduzione è fedele capite la massa bhaktani che vuol dire perché mi hai abbandonato quindi l'interpretazione la scrittura intende col dono dell'interpretazione delle lingue appunto il passaggio da una lingua all'altra di quello che della traduzione da una lingua all'altra di quello che si è detto in lingue quindi traduzione traduzione o interpretazione c'è scritto anche in altri punti in altri punti rabbi ad esempio in alcuni punti è scritto che rabbi il che interpretato vuol dire maestro in altri punti delle scritture ci sono diversi passaggi che riportano il passaggio da il significato in ebraico al significato in greco viene tradotto e viene usata la parola interpretare quindi tradurre da una lingua all'altra quindi quindi questo questo ci fa comprendere che la scrittura utilizza la parola interpretazione con il significato preciso di 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 traduzione di tradurre da un linguaggio ad un altro quello che è stato quello che è stato detto quindi una volta determinato questo che l'interpretazione la traduzione di quello che è stato detto in una lingua se noi abbiamo dimostrato precedentemente che le lingue era un parlare in altre lingue era un linguaggio un parlare rivolto a Dio ed essendo l'interpretazione una traduzione esatta di quello che è stato detto in lingue praticamente anche l'interpretazione diventa un parlare rivolto a Dio ed è per questo che quando Paolo diceva se chi prega se prego in altra lingua ben prega lo spirito mio ma quando dice io pregherò con lo spirito ma pregherò anche con l'intelligenza vedete cioè se si riceve il dono dell'interpretazione delle lingue si prega prima in lingue ma poi si prega anche con l'interpretazione delle lingue è sempre una preghiera e così per quanto riguarda il salmeggiare benedire il Dio parlare delle cose grandi di Dio vedete sia le lingue che l'interpretazione delle lingue sono una manifestazione dello spirito che riguarda un parlare rivolto a Dio all'alto a Dio mentre la profezia abbiamo visto che è un parlare di Dio rivolto agli uomini quando un esempio di profezia no? così parla l'eterno io sono il vostro Dio che vi parlo voi siete il mio popolo ecco in questa mani faccio degli esempi per farvi capire come si manifesta la profezia in lingua comprensibile a tutti e in lingua comprensibile a tutti e persino un messaggio di Dio rivolto agli uomini purtroppo purtroppo diciamo questi doni questi doni sono tra i più falsificati nell'ambiente pentecostale sono i doni lingue interpretazione e profezia sono i doni spirituali di cui la scrittura parla di più che Paolo parla di più di questi doni per spiegarli ma il Dio nella sua sapienza nella sua intelligenza sapeva che sarebbero venuti dei doni questi doni che sarebbero stati falsificati sarebbero stati falsificati e non poco quindi vedete ci ha lasciato le sacre le spiegazioni delle sacre scritture che ci mette per metterci in guardia per farci comprendere cosa sono questi doni affinché poi ci guardiamo da quei doni che invece che invece sono sono falsi quindi le lingue vedete le scritture spiegano chiaramente cosa sono e anche l'interpretazione delle lingue ora queste cose bisogna meditarle attentamente fratelli voi dovete leggere non una io non mi sono limitato a leggere una volta due volte tre volte quattro volte questi capitoli dodici tredici e quattordici di prima corinzi e atti due li ho letti e riletti mi sono inginocchiato ho pregati Dio ho cercato la faccia del Signore perché io volevo capire io non volevo essere ingannato dai fratelli volevo comprendere discernere la verità della parola me delle manifestazioni io cerco una spiegazione delle manifestazioni attraverso la scrittura non faccio il contrario non cerco la spiegazione delle scritture nella manifestazione capite cioè non vado prima si manifestano le cose e poi le vado a cercare nella Bibbia dove sono no è il contrario prima si devono cercare si deve leggere nelle scritture e da quelle scritture dobbiamo esaminare l'esperienza dei credenti che operano nelle chiese infatti attraverso questo studio delle scritture voi vi renderete conto che nella stragrande maggioranza delle chiese ci sono molti che parlano in altre lingue ma non sono da Dio per il tipo di linguaggio che dicono oppure in una comunità dove tutti dicono le stesse due tre paroline vi ricordate quando Elirio Porrello in quel video esorta tutta la sua comunità a parlare in altre lingue e poi a interpretare ecco quello lì sono tutte manifestazioni false non sono manifestazioni veraci di Dio non è a comando non è a comando che si parla in altre lingue ma è lo Spirito Santo quando vuole lui non quando vuole l'uomo l'uomo non sa quando lo Spirito Santo parla in altre lingue lo Spirito Santo non sa quando l'uomo non sa quando lo Spirito Santo interpreta le lingue o profetizza non lo sa non gli è stato detto lui sa di aver ricevuto questi doni quindi si mette a disposizione del Signore affinché attraverso di lui si manifestino quei doni ma lui non lo sa non lo ha preparato non sono cose preparate poi un'altra cosa che dovete notare è che quando lo Spirito Santo parla un'altra lingua ad esempio se lo Spirito Santo parla in arabo o in lingua ad esempio in inglese ne parla in maniera perfetta cioè con gli accenti proprio del posto in maniera come se fosse meglio di tutti gli arabi e meglio di tutti gli inglesi parla quelle lingue perché perché lo Spirito Santo è perfetto il suo parlare è perfetto non sbaglia i verbi quando parla in profezia faccio un esempio lo Spirito Santo non sbaglia i verbi se voi ascoltate attentamente qualche profezia no voi vi renderete conto che quel parlare è grammaticalmente anche sbagliato basta fare un po' chi ha fatto le scuole no sa che certe coniugazioni dei verbi certe parole non possono essere pronunciate in quella maniera in una frase ora se noi ascoltiamo se siamo attenti ascoltatori ci renderemo conto anche di questo le profezie ci renderemo conto talvolta che sono false perché ma perché ci sono le coniugazioni dei verbi sbagliate capite lo Spirito Santo lo sa come si coniugano i verbi come si dicono le parole e quindi non solo nella nostra lingua ma in tutte le lingue lo sa perché lo Spirito Santo è Dio lo Spirito Santo è potente e glorioso capite e quindi sa tutte le cose quindi non ci sono errori in quello che è lo Spirito Santo quando si manifesta lo Spirito Santo a molte c'è uno che ha parlato in lingue è capitato è capitato che uno si alza a parlare in altre lingue e poi se ne alzano due contemporaneamente si mettono a interpretare cose diverse cose diverse capite ecco dovete stare attenti a tutte queste cose tutte queste cose sono segnali che lì c'è uno Spirito di falsità ci sono Spiriti di menzogna ci sono Spiriti che stanno ingannando la fratellanza non è così non è così che che lo Spirito Santo lo Spirito Santo sa bene come come deve fare quindi se ha fatto parlare in lingue se ha parlato in lingue attraverso uno e poi vuole interpretare le sue stesse le lingue con un'altra persona lo fa ma se lui decide di interpretare non fa alzare due persone e dire due cose diverse capite non è possibile non è assolutamente possibile altrimenti lo Spirito Santo sarebbe solo confusione no? a chi ascoltiamo? qual è la traduzione che ascoltiamo? a destra o a sinistra non va bene così quindi bisogna essere attenti ascoltatori quando si va in comunità perché non tutto quello che si dice si fa nelle comunità in tutte le comunità può essere verace ci possono essere delle cose false quindi noi non ci dobbiamo non ci dobbiamo fare ingannare volevo cittarvi anche un altro passaggio al capitolo 13 di Corinzi questo perché cosa usano taluni per dire che i loro linguaggi non sono comprensibili usano questo versetto andiamo al capitolo 13 di prima Corinzi il cosiddetto inno all'amore di Paolo dice così quando quando io parlassi le lingue degli uomini e degli angeli se non ho carità divento un rame risonante o uno squillante cembalo e quando avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede in modo da trasportare i monti se non ho carità non sono nulla e quando distribuissi tutte le mie facoltà per nutrire i poveri e quando dessi il mio corpo ad essere arso se non ho carità ciò niente mi giova vedete qui Paolo con questi versetti sta cercando di esortare i santi di Corinto a ricercare prima di tutta la carità naturalmente come già abbiamo letto senza tralasciare però di ricercare anche anche di desiderare ricercare anche i doni spirituali ma primariamente è importante essere ripieni di carità cercare procacciare la carità qui per spingere a questo l'Apostolo Paolo fa degli esempi dei paragoni citando un estremo un estremo che potrebbe verificarsi ma non è normale infatti qui dice quando anche io parlassi le lingue degli uomini e degli angeli quando anche un uomo riuscisse a parlare tutte le lingue degli uomini e tutte le lingue degli angeli se non ha carità non è nulla cioè nulla gli serve non gli serve niente questo paragone Paolo lo mette come estremo per far capire che è la carità la più grande di tutte ma non sta dicendo che ci possono essere i parlare in altre lingue angeliche capite lo sta ponendo come estremo e poi non è che sono lasciate da sole le lingue dice le lingue degli uomini e degli angeli come dire tutte le comunicazioni che possono esserci nell'universo sia degli esseri viventi visibili sia degli esseri viventi invisibili se uno nella comunicazione nel parlare avesse tutto ma non ha carità non gli giova nulla questo sta dicendo l'Apostolo Paolo non sta dicendo che il parlare in altre lingue può essere quello degli angeli non lo sta dicendo vedete quindi taluni cosa vogliono perché si aggrappano a questo versetto si aggrappano a questo versetto perché perché vogliono vogliono giustificare la loro cacofonia le loro sillabe pronunciate in maniera incomprensibile e quelle sillabe dovrebbero essere il parlare degli angeli ma mi viene da dire a Costolo ma è quelle cose che dite quel masciai masciallai che ripetete continuamente o altre sillabe che pronunciate continuamente a ripetizione sono è un parlare angelico è quello lì è il parlare angelico ma no ma si capisce chiaramente ma non è così non è così non si possono aggrappare a questo versetto non dice questo infatti vedete gli altri paragoni guardiamo anche gli altri paragoni che Paolo ha fatto ha detto quando avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza vedete e avessi tutta la fede in modo da trasportare i monti se non ho carità se non ho carità non sono nulla sta facendo degli estremi capite non è la normalità sta citando dei paragoni citando degli elementi estremi per far capire che la carità è la più grande di tutti non sta dicendo qui che uno può avere tutte conoscere tutti i misteri perché Paolo poi in un altro punto più avanti dice dice noi conosciamo in parte quindi non sta facendo questi paragoni che diventano la normalità infatti andando avanti guardate altri paragoni per farvi capire per farvi capire il primo paragone guardiamo anche gli altri dice ancora quando anche io distribuissi tutte le mie facoltà per nutrire i poveri quando dessi il mio corpo ad essere arso vedete se non ho carità niente mi giova qui non è che il Signore ci sta dicendo di farci facciamoci bruciare e neanche voglio dire se vuoi essere perfetto sì tu va dona tutti i tuoi beni ai poveri se vuoi essere perfetto è possibile questo però non è la normalità capite è sempre l'estremo è sempre qualcosa che potrebbe anche essere possibile ma non è la normalità non è la normalità questi questi paragoni che Paolo sta facendo quindi non può essere preso questo passo per farne la normalità ah e voi non puoi interpretare nessun esperto linguista può comprendere il mio parlare in lingue perché perché il mio parlare in lingue è angelico poveri angeli se parlano così con quei masciallai non è possibile non è possibile quindi vedete anche questo passaggio biblico a cui si aggrappano taluni pentecostali taluni pentecostali non è non non ha il significato che questi gli vogliono dare per giustificare il loro errore la loro falsificazione perché voglio dire falsificando poi si devono giustificare capite perché non basta che falsificano poi devono anche mentire devono anche giustificare devono trovare ma questi sono bugiardi questi questi si vogliono prendere beffe si vogliono fare beffe della parola di Dio ma a suo tempo riceveranno quello che si meritano a suo tempo riceveranno quello che si meritano perché non è che si stanno mettendo contro un uomo si stanno mettendo a sbeffeggiare Dio a mentire contro Dio e contro lo Spirito Santo quindi a suo tempo ora vi ricordate di Anani e Saffira che hanno mentito contro lo Spirito Santo e Dio loro li ha fatti morire li ha fatti morire quasi immediatamente quindi non è che ci si può scherzare cioè questo voglio dirvi fratelli non scherziamo con queste cose e dovete quando incontrate qualche fratello che vi accorgete che falsifica mettetele in guardia per il loro bene li dovete dire ma fratello ma cosa stai facendo cosa stai dicendo dove è biblicamente come lo puoi confermare una volta che gli dimostrate biblicamente mettetelo in guardia tu stai rischiando la tua vita da un momento all'altro cioè qui ti può venire quello che è sceso su Anania capito è Saffira state attenti non ci si può prendere beffe non ci si può fare non si può prendere in giro la parola oddio cioè tu puoi ingannare un fratello per un tempo ma neanche poi si accorge anche lui che queste cose sono false poi volevo citarvi un altro passaggio sempre più avanti del 13 capitolo 13 di prima corinzi al versetto 8 questo passaggio invece viene citato dagli anti pentecostali dai cessazionisti volendo con questo dire che certi doni spirituali come le lingue e la profezia sono cessati va bene che solo in parte sarà abolito ora questi cessazionisti cosa vanno in giro a dire dicono che la perfezione è già venuta e qual è questa perfezione ah è la chiusura del canone biblico e come facciamo noi a ricondurre no noi prima abbiamo visto io ho detto che l'interpretazione del lingue è la traduzione delle lingue ma per dire questo sono andato alla scrittura e ho dovuto citare un versetto per spiegare perché sono arrivato a quella conclusione se io dico che la perfezione è la chiusura del canone biblico ho bisogno di qualche passaggio biblico che mi dica che è questo che sto dicendo capite non è che mi posso inventare la perfezione o mi invento io che cos'è me la invento io la perfezione è la perfezione cioè quando verrà la perfezione ma quando il signore tornerà no i morti risusciteranno per primi poi quelli che saranno viventi saranno trasformati e quando quando anche il corpo sarà redento e e saremo completamente redenti quindi nel corpo nell'anima e nello spirito allora ci sarà la perfezione allora sì che ci sarà la perfezione quindi la perfezione si intende il ritorno del signore ma è chiaro che cesseranno le profezie le lingue l'interpretazione quando 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 il signore tornerà perché non sarà più utile perché il signore poi rimarrà sulla terra no cioè noi saremo glorificati con Cristo i santi saranno glorificati e gli eletti saranno glorificati con Cristo e non ci sarà più bisogno di parlare in altre lingue e di profetizzare e in quel caso lì e in questo caso questo vuol dire la perfezione non non che il canone biblico non può essere riferito al canone biblico ma poi quello che loro dicono è sconfessato da diverse cose ad esempio le profezie e le lingue sono messe insieme alla conoscenza ora qui dice quante le lingue cesseranno quanta la conoscenza essa verrà abolita vedete come vengono abolite le profezie ora ma perché questi cessazionisti fanno aboliscono la profezia fanno cessare le lingue però non aboliscono la conoscenza qui c'è scritto che alla perfezione verrà abolita la conoscenza e le profezie e le lingue cesseranno perché la conoscenza non la fanno cessare è finita la conoscenza perché no perché loro interessa soltanto dimostrare trovare un versetto biblico da qualche parte per poter dire che le lingue non sono più per oggi ma non è vero non è assolutamente vero abbiamo visto prima che la promessa dello Spirito Santo è per quanti Dio ne chiamerà fino a quando in Gioele è scritto fino a quando non verrà il giorno del Signore capite quindi è tutto confermato è tutto preciso vedete tagliando rettamente le sacre scritture tutto quello che stiamo dicendo non si contraddice non ci sono contraddizioni quindi un'altra cosa vedete no se noi andiamo leggiamo adesso in Apocalisse 11 11 perché questi cessazionisti dicono che dicono che le lingue e le profezie sono cessate quelle profezie che diciamo bibliche quelle che leggiamo appunto pronunciate dai profeti noi invece diciamo che oggi c'è ancora il dono di ministerio di profeta e cosa fanno i profeti ricevono rivelazioni da Dio e anche profetizzano e si come profetizzavano gli antichi profeti non cambia nulla è sempre il dono di ministerio di profeta non è che cambia sempre qui sotto la grazia e anche sotto la legge è la stessa cosa al capitolo 11 di Apocalisse qui parla dei due testimoni che dovranno ancora venire due testimoni che dovranno ancora venire questi due testimoni cosa faranno tra le cose che faranno leggiamo un po' cosa faranno 11 1 c'è scritto poi mi fu data una canna simile vabbè saltiamo questo versetto 3 11 e 3 di Apocalisse e io darò ai miei due testimoni di profetare guardate qua fratelli qui verranno i due testimoni gli sarà dato di profetare ma scusate ma se le profezie è cessata secondo questi cessazionisti gli antipentecostali dicono che le profezie sono cessate sono abolite ma come devono venire i due testimoni e devono profetare allora non sono abolite ci sono ancora no? ci saranno ancora poi Dio parla di distribuire lo Spirito Santo distribuisce i doni come egli vuole tra cui c'è il dono di profezia come mai sono già cessate le profezie c'è addirittura anche il dono di ministerio Gesù ha fatto dei doni agli uomini i doni di ministerio tra cui c'è quello di profeta ma come mai il dono di profezia è cessato non è cessato né il dono di profezia e non è cessato neanche le lingue e non sono cessate neanche l'interpretazione delle lingue costoro erano grandemente perché non conoscono le scritture e non conoscono neanche la potenza di Dio è proprio il caso di dirlo non credono e non conoscono la potenza di Dio infatti la caratteristica di queste persone che contrastano lo Spirito Santo è appunto questo che sono spenti spiritualmente leggono le scritture e non ci credono io li ho incontrati ne ho incontrati diversi di questi ho chiesto li ho ascoltati attentamente parlano ma non credono nella parola di Dio capite non ci credono parlano di certi passaggi ma mancano di fede mancano di zelo mancano di ardore non sentite nessuna potenza in loro non c'è perché contrastano seppur hanno creduto nel Signore nostro Gesù Cristo per ottenere per mezzo della fede la loro la salvezza la rigenerazione spirituale seppur l'hanno ricevuta e sono nostri fratelli pure contrastando questa questa parte della verità della parola di Dio spengono lo Spirito Santo lo spengono non sono zelanti non arde dentro di loro il fuoco dello Spirito Santo quindi vedete i due testimoni gli sarà dato di profetare di compiere segni prodigi di compiere certi certi segni quindi a questi due testimoni che dovranno ancora venire quindi fratelli se dovranno profetizzare ma la profezia non è cessata come fa se è cessata che fa poi ritorna e no quindi non è come dicono costò quindi fratelli vi esorto a pregare il Signore a chi ancora non è battezzato con lo Spirito Santo a insistere non vi tirate non abbassate non spegnete quello zelo quello zelo che deve essere dentro di voi dentro di noi non spegniamo quello zelo continuiamo a domandare battesimo con lo Spirito Santo guarigioni per chi è infermo anche le guarigioni potenti di Dio che Dio è potente da compiere ogni cosa nulla è impossibile per la sua mano per la sua potenza quindi lui può guarire può distribuire i suoi donne spirituali può distribuire i suoi donne di ministerio per quanto riguarda i doni di ministerio ricordo che il dono di ministerio di profeta è aperto anche alle sorelle alle donne la donna non può insegnare quindi non può assumere quegli incarichi che sono legati che hanno come tra i presupposti tra le caratteristiche anche quella dell'insegnamento però altri doni doni spirituali sono aperti anche alle donne alle sorelle il dono il dono di ministerio di profeta è aperto anche alle sorelle c'erano nella scrittura troviamo diverse profetesse quindi non è che la donna non può servire il signore solamente che sia la donna che l'uomo dobbiamo tutti servire il signore secondo la volontà di Dio non secondo la nostra volontà ma secondo la volontà di Dio quindi preghiamo preghiamo ardentemente con zelo cercando prima di tutto la carità certo di crescere di abbondare nella carità perché se non c'è la carità non siamo nulla possiamo avere anche tutti i doni spirituali conoscere tutti i misteri di tutto di tutta la terra ma se non abbiamo carità nulla ci giova non siamo nulla quindi prima la carità e dopo senza tralasciare di ricercare anche i doni spirituali di ricercare i doni potenti che Dio ha promesso per la Chiesa questa era dunque la conoscenza l'esortazione che volevo darvi la conoscenza di ciò che riguarda questi doni spirituali in particolare che affinché voi come diceva Paolo non siate nell'ignoranza ma sappiate queste cose affinché le possiate portare a vostra volta ad altri fratelli capite questo trasmettere la conoscenza dall'uno all'altro non deve essere sterile perché poi si deve trasmettere dall'uno all'altro come testimonianza anche come insegnamento per chi può insegnare come esortazione come come il Dio aprirà le porte a Dio siano la gloria l'onore e la lode nei secoli dei secoli amén l'onore 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 l'onore